Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7.05 in questo istante qui su Crystal Radio, buona giornata a tutti e ben ritrovati, una nuova settimana in vostra compagnia, grazie come sempre di farci compagnia tutte le mattine qui all'ascolto di Good Morning Milano in diretta su Crystal Radio, gli studi di Good Morning Milano in quel di San Siro, adesso avete tutto anche geograficamente, vi posso dire anche tutto numericamente, 231-7853-555, il numero di Whatsapp a cui potete scriverci per interagire con noi, raccontarci quello che fate o quello che farete in questa giornata o, visto che oggi è lunedì, quello che avete fatto nel weekend, dove siete andati, weekend che a un certo punto avuto giù un'acquazzona grandinata pure a un certo punto qua, almeno non so dalle vostre parti, durata 10 secondi praticamente, giusto il tempo di far correre a ritirare dentro i panni stesi ma poi dopo tutto come prima, quindi insomma un weekend con il sole in attesa della Pasqua, ma di solito non è che se c'è alle palme il sole a Pasqua piove, di solito è così e infatti le previsioni non danno gran tempo bello per domenica, lunedì invece il prossimo dovrebbe esserci mezza giornata bella, quindi una Pasquetta a metà, ma vedremo, ci avvicineremo pian pianino. Oggi dicevo è il 25 marzo ed è anche il compleanno di Mina, pensate 84 anni fa, ebbene sì, buon compleanno a Mina, è nato appunto il 25 marzo del 1940. Questa era la voce di Mina che oggi appunto festeggia 84 anni, buon compleanno a Mina, tanti tanti auguri anche dal, no la faccio la battuta, la faccio, la faccio? Tanti auguri anche dal fisco italiano, no scherzo, no scherzo, che poi non so neanche se è vero in realtà questa cosa, questo mito del fatto che Mina, il fisco, la Svizzera, buono non so, però ma vabbè, è una battuta dai, si fa, si fa, tanti auguri anche da Crystal Radio. Comunque, 3317853555, allora arriva un whatsapp che inizia, cioè è il piano alimentare del nostro Alberto, che dice una tazza di caffè con latte, una brioche, lo yogurt e Fabio in sottofondo. Buona settimana santa a tutti, grazie, anche a te buona settimana, mi piace che vengo dopo lo yogurt, quindi servo per poter espletare le proprie funzioni mattutine, evidentemente, faccio come Bifidus Lactis con una roba lì, no va bene, comunque grazie per il messaggio. E poi si ricollega a quello che diciamo prima, a questo weekend di pioggia e grandine che c'è stato appunto in questi, sabato soprattutto, infatti dice tra il Naviglio e Bucinasco, sabato prima delle 17, c'è stato un bombardamento da grandine e ci allega delle foto che davvero testimoniano quanto ha grandinato. In realtà sembrano un po' le foto di quando io sbrino il freezer, so se voi avete questo problema, no, il mio freezer è un mondo a parte, potrebbero girarci delle scene dell'era glaciale, mancano i mammut, per il resto c'è tutto. Ci sono dei blocchi di ghiaccio che veramente neanche durante le glaciazioni e quindi io devo intervenire a volte con strumenti un po' oltre. No, non si va con il fondo l'acqua calda, non si fa con la roba lì, perché rischi di rovinare le guarnizioni e rovinare il freezer. Ma scalpello e martello l'ho fatto più di una volta, devo dire la verità, soprattutto stando attenti, perché anche lì si dà una martellata alla porta del freezer, insomma non sta molto bene. Sta di fatto che quando finisco, e di solito metto sotto un telo o qualcosa che in realtà non fa niente, perché poi dopo si bagna tutto, uno schifo allucinante, però quando finisco sotto praticamente ho una sorta di neve finta dell'albero di Natale, del presepe di Natale, molto poco finta, perché è tutta bagnata, gelida, e sembra un po' questa immagine che ci ha mandato oggi Alberto sulla grandine. Praticamente riesco a fare... ecco, il mio freezer è una macchina della grandine, evidentemente, sì. Comunque oggi non è il compleanno solo di Mina, pensate che è anche il compleanno di Arturo Toscanini, sì, ne farebbe 157 di anni, quindi non è che... Però sì, proprio, quindi deve essere una cosa che oggi nascono quelli lì che fanno le cose brave. Anche Rita Franklin, pensate, Rita Franklin 82 anni fa, Rita Franklin 82 anni fa, 1942, nata appunto il 25 marzo del 1942. E altro, altro nome importante della musica internazionale, Elton John, nato il 25 marzo del 1947, 77 anni per Sir Elton John, che oggi compie i suoi 77 anni. Quindi tanti auguri a voi e soprattutto chissà se anche voi nella vostra vita avete avuto a che fare con il traffico milanese, perché a Londra magari è diverso, ma qua a Milano ti assicuro, caro Sir Elton, che non è proprio facile girare quando c'è il traffico. E allora l'unico modo per farcela qual è? Ascoltare i preziosissimi consigli di Luce Verde, che ci dà la fotografia in tempo reale, in questo istante, della situazione del traffico su Milano e città metropolitana. Quindi Milano e la provincia, Milano e i comuni nitrofi. Tutte le strade portano a Milano. Elton John con Nikita, le 7.21 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano. Tanti auguri a Sir Elton John, 77 anni, nato appunto il 25 marzo 1947. E ieri era la domenica, ed era la domenica dei... una volta si diceva dei 50.000, poi dei 60.000, quest'anno dei 62.000. Chi sono? I 62.000 partecipanti alla Stramilano. Leggiamo da Repubblica Milano, la Stramilano dei record. Oltre 62.000 partecipanti tra cani di corsa e pracoduttisti col tricolore. Vabbè, questa... quindi se contano anche i cani, allora ecco perché sono 62.000. Tutti i vincitori della mezza maratona, poi l'elenco appunto di chi ha vinto e non ha vinto. Edizione numero 51, 8.000 i professionisti per la corsa agonistica. E poi la Stramilanina anche, ed esibizione del corpo volontario dei carabinieri. Questo è appunto quello che titola in apertura Repubblica Milano quest'oggi. Corriere della Sera non è da meno, Corriere Milano dice record di presenze per la Stramilano 2024, oltre 62.000. Kim Tai Anthony è il vincitore della mezza maratona, appunto. Edizione numero 51, anche qui tra cani di corsa e pracoduttisti col tricolore. Si sono copiati i titoli oggi. Questa cosa dei cani di corsa deve aver toccato le fantasie dei giornalisti che hanno seguito la Stramilano quest'anno. Tutti i vincitori poi della mezza maratona, in 8.000 professionisti per la corsa agonistica. E poi appunto le altre, hanno scritto la stessa identica cosa. Il sottotitolo è lo stesso identico sui due giornali. Comunque complimenti alla fantasia. 62.000 appunto le persone che domenica mattina si sono ritrovate in Piazza Duomo per partecipare alla 51esima edizione della Stramilano. Stramilano che quest'anno ha, ecco perché, posso dire che ci sono sempre stati i cani. Quest'anno potevi iscrivere la Stramilano però. Quindi la Stramilano era aperta anche ai cani. Quindi, pensate, cani e corridori. Comunque, che iscritti hanno potuto correre insieme ai loro padroni. In realtà già negli anni scorsi non ho visti, comunque non posso dire. Però in questo caso erano cani con il pettorale. Quindi cani con il pettorale, cani registrati che correvano e quindi tante belle cose. Comunque, la maratona, la half marathon, anzi, l'ha vinta Kim Tai Anthony, che è ignota classe 88, con il tempo di un'ora e 31 secondi. Vabbè la metà di quanto ci si mette a fare una maratona, pensate. Quindi il ritmo è sempre quello. Partenza appunto in Piazza Duomo alle 9.30 con il colpo del cannone storico del reggimento artiglieria a cavallo e poi spettacolo della fanfara e in seguito appunto partenza della 10 chilometri. Alle 10 invece è partita la Stramilanina, che è la minigara di 5 chilometri dedicata ai piccoli runner, accompagnati anche da genitori, nonni e anche maestre e maestri delle scuole. molto molto bello, una giornata importante per Milano come sempre, una giornata di festa. Insomma, Stramilano è una tradizione vera e propria del nostro territorio. Sono contento che tenga sempre, anzi sempre più persone si avvicinano a questo, nonostante Milano ormai già una corsa sia una corsa ad ogni weekend. perché ci pensate, cioè, davvero tutti i weekend c'è qualcosa, qualcuno che corre. Inoltre, se non sbaglio, era anche il weekend della DJ Ten, infatti sì, a Torino, che sicuramente comunque ha portato via un po' di gente da Milano, perché sappiamo quanto i nostri amici di quell'altra radio lì, quelli che corrono, hanno un bel seguito. Quindi, insomma, nonostante veramente, e chissà quante altre corse c'erano ieri, comunque 62.000 per la Stramilano. Beh, direi che insomma non è per niente un brutto risultato, anzi... Luce Battisti, 10 ragazze, 7.33 minuti, Cristiano Radio, good morning Milano, ben tornati e grazie anche che al 3317853555 ci scrive messaggi del genere. Buongiorno Fabio, stamattina con la canzone di Alain Drobaldi è subito karaoke, che grazie e buon lunedì, è dopo quest'altra, quindi pensate voi, immagino il canti, i canti e il karaoke che avete fatto questa mattina in casa. Il mio pubblico ci prova anche a prendere in castagna, ma come dire ragazzi, c'è poco da fare qua, non si scherza con l'imperatore del good morning Milano, qua non si scherza, lo sapete, perché mi è stato scritto a un certo punto Oh, hai detto pettorali, invece si dice pettorine, i pettorali sono i muscoli. È vero, i pettorali sono i muscoli, che non ho, però ci sono da qualche parte quelli lì, ma attenzione perché quella di gara è pettorale, non è pettorina. Pettorale di gara, la pettorina invece è quell'altra che vi mettete su quando o bucate la gomma in tangenziale, quindi dovete mettere quella con il catrifrangente, quella lì, la pettorina, o quella quando dovete dividere le squadre a pallavolo, a calcetto, non si può fare con la maglietta e senza maglietta, che una volta si faceva così, no? Casualmente io giocavo sempre in una squadra con quella con la maglietta, chissà come mai. Comunque quella roba lì, invece si mettono le pettorine, ok? Quindi la pettorina con la roba lì, il pettorale è quell'altra, ma vi scusiamo lo stesso, va bene? Non c'è problema, siamo clementi questa mattina. A proposito di clemenza, parliamo dell'arcivescovo Mario Delpini, non so, in realtà non c'entra niente, però la clemenza cristiana, non so se esiste neanche. L'arcivescovo Mario Delpini torna sulla questione della scuola di Pioltello, perché sulla scuola chiusa per la fine del Ramadan a Pioltello c'è stata una specie di crociata, così ha detto, criticando non la scelta di chiudere la scuola, ma la scelta di criticare e di continuare ad aumentare l'attenzione su questo. Dicendo appunto, sono favorevole, sostengo la decisione del consiglio di istituto, a Pioltello sono state tante volte e si è creato ormai un caso di rilevanza nazionale. Il fatto che sia stata creata una specie di crociata ha complicato la vita preside sindaco e alla comunità di Pioltello, quindi solidale con la scelta della scuola l'arcivescovo. L'arcivescovo che ieri è stato allo stadio di San Siro, no, non a vedere una partita, ma ad accogliere 50.000 ragazzi, ragazze, bimbi e bambine tra i 10 e gli 11 anni per il tradizionale incontro con i Cresimandi. Si va verso le Cresime e ieri 50.000 fedeli hanno incontrato l'arcivescovo del Pini allo stadio. È una cosa, quella dello stadio di San Siro e il Cardinale, che pensate, va avanti, dal 1983, fatta appunto dal Cardinal Martini. Io me la ricordo, l'ho fatta anch'io quando avevo 10-11 anni, quindi il 91 credo, anzi penso sì, penso il 91 perché credo ci fosse già lo stadio nuovo appena usato per i mondiali, quindi se non sbaglio era il 91 e forse non eravamo 50.000, non lo so, in realtà erano mari anche all'epoca, anzi erano tantissimi. Qualche anno fa, un paio di anni fa, sono tornato come giornalista a seguire l'evento, molto interessante, è bello anche vedere tutto quello che è intorno allo stadio proprio in quel giorno perché sono abituati di solito a vedere le tifoserie, le bandiere delle varie squadre, a volte anche magari un po' così di adrenalina agonistica, chiamiamola così, non so come poterla definire, invece vedere tutta questa felicità, questi ragazzini, queste ragazzine contente che cantano, ballano tutti divisi con i colori, insomma, devo dire che è una bella tradizione che speriamo vada sempre avanti e complimenti anche appunto al cardinal, all'arcivesco, scusate, all'arcivesco Delpini per le parole su Pioltello. Fino a qui tutto bene, o meglio, fino a prima che flexassi, sapete cosa vuol dire flexare, no? Cioè, menarsela un po', fare un po' quello che sono tutto io, no? Ho fatto l'infighetta sulla pettorina, il pettorale, e poi ho sbagliato invece l'arcivescovo. Eh sì, no, perché? Perché il... Ebbene, il cardinale, ma no, arcivescovo. Il monsignor Delpini è arcivescovo di Milano, non è cardinale. In realtà, io non lo so se poi non è anche arcivescovo, non l'ho capito questa cosa. Allora, non so quelli del militare, non so, ve lo dico proprio, non c'è generale, sergente, caporale, non ho la minima idea. Sono solo che sopra che lo c'è il generale, sotto è stato semplice, semplicemente questo. Quindi, per quanto riguarda la Chiesa, so che sopra c'è il Papa e sotto c'è il Diacono, credo sia, ancora meno del parroco, credo sia l'ultimo, che poi è quello che fa il lavoro sporco. Vabbè, comunque, il monsignor Delpini è vescovo di Milano, anzi arcivescovo di Milano, non si capisce niente, qualcuno me lo può spiegare, 33178-53555. Cioè, allora, il vescovo so chi è, va bene, non c'è problema. L'arcivescovo, credo sia, è un vescovo appena sopra il vescovo, giusto? Poi, però, c'è il cardinale, che è sotto il Papa, giusto? Quindi sopra al vescovo. Ma esiste anche l'arci cardinale, non credo. Non credo, no, il cardinale, no, non lo so, mi date un aiuto, per favore. Chiedo l'aiuto da casa, 33178-53555, vi prego, aiutatemi. Comunque sì, credo che sia così, mi stanno facendo segni, credo sia così. Allora, c'è il vescovo, poi l'arcivescovo, poi il cardinale e poi il Papa. Cioè, andando in su, andando sulla scala gerarchica. Comunque, tutto questo, perché? Niente, perché l'ho chiamato cardinale, invece era il monsignor arcivescovo del Pini. Mi scusi, monsignore, non lo faccio più, giuro, promesso. Comunque, invece, adesso ci spostiamo su tutt'altra notizia, ha a che fare con la città a 15 minuti, le piazze aperte e così. Sta di fatto che Quartogiaro, in via Graff, chiuso il parcheggio per le auto, ecco, ecco, la nuova piazza aperta di Milano. Cosa succede? In via Graff, uno spazio dedicato alla cittadinanza, dove sorgeva però un parcheggio, quindi ovviamente polemiche e tutto. Allora, su questo tema, a me piacciono tanto le piazze aperte. Ce n'è una qua vicino a casa, molto carina, qua dietro gli studi, molto carina, ma con tutto lo spazio che c'è. Ma devi andare poi a togliere un parcheggio. Nel senso che nel mondo, io i parcheggi ne vedo tantissimi. E funziona proprio per mettere giù una macchina, mollarla lì, e andare a piedi in giro per la città, prendendo i mezzi e tutto. Anche se sono all'interno della città, sì, perché sono comodi a volte. Tu vivi da una parte, lavori dall'altra, ma sempre all'interno della città. Magari lo spostamento non è proprio comodissimo fin da casa o nell'ultimo miglio. Allora cosa fai? Ti sposti con la macchina per un pezzo, la lasci nel parcheggio e poi vai al tuo lavoro. Oppure se magari lavori fuori città, o se arrivi da fuori la metti lì, poi prendi i mezzi. Insomma, proprio un parcheggio dobbiamo togliere. Bello, nel senso, a me piace una piazza aperta, ma proprio un parcheggio, non lo so. Comunque, mi scrivono al 331 68 53 555, mi scrivono che, allora, c'è il Papa, Cardinale, Arcivescovo, Vescovo e Monsignore. Perfetto. Un Monsignore può essere Vescovo o Arcivescovo. Fin qua, ok, sì, è come dire onore. Cioè, sì, nel senso, va bene, è un titolo. Del Pini è Monsignore e Arcivescovo, perché Milano è Arcidiocesi, vedete? Quindi non avevo, cioè, no, è sbagliato, è sbagliato, però, perché se è Arcidiocesi... Ah, l'Arcidiocesi è l'Arcivescovo, giusto, ok, no, no, grazie mille, grazie mille per la delucidazione. Allora, non è Cardinale e sarebbe bello sapere perché. Chiedono anche, ah, c'è anche un po' di polemica in questo. C'è stato, anzi, grazie mille ancora a chi ci aveva dato i messaggi per spiegare bene la situazione del mio errore sul Vescovo o Cardinale, quindi, ricapitolando, facciamo bene tutti i compiti, allora, Del Pini è Monsignore in quanto Vescovo, o meglio, Arcivescovo, perché Milano è un'Arcidiocesi e quindi l'Arcivescovo è colui che comanda un'Arcidiocesi di quella di Milano. Poi c'è appunto questo messaggio che ci manda Alberto con un po' di polemica sotto, dicendo, non è Cardinale e sarebbe bello sapere perché. Quindi, va bene, adesso poi chiederemo a chi è più informato come mai questa distinzione del non... quindi, se non è Cardinale, questo lo so, non può votare per il Papa. Questo sì, cioè, quando c'è il conclave ci devono solo i Cardinali, si dice, entri Papa ed esci Cardinale, si dice no, quindi, ecco, evidentemente ci devono solo i Cardinali. Vabbè, comunque questo è quello che questa mattina abbiamo imparato anche, vedete, lezioni di, no teologia, no, lezioni di gestione dello, non so come si chiama, di HR della Chiesa Cattolica, non so, risorse umane della Chiesa Cattolica. Comunque, va bene, tornando invece sul tema del parcheggio, non vorrei che, insomma, io sono, come dicevo, sono molto favorevole a queste iniziative delle piazze tattiche, della viabilità alternativa, delle piste ciclabili, tantissimo, tantissimo. Quello che, infatti, mi dispiace un po', però, è vedere quando, insomma, lo spazio c'è già, è un parcheggio che sicuramente era utilizzato e tutto, ma forse non era molto sicuro. E allora cosa succede? L'area interessata di intervento è un parcheggio che, per garantire sicurezza e dare spazio ai giochi ai bambini e alle bambine, ha uscito la scuola, fondendo contestualmente un luogo d'attesa confortevole e conviviale ai loro accompagnatori e agli abitanti del quartiere. Quindi, per quello, è stato chiuso al traffio questo parcheggio vicino a una scuola. Ora è uno spazio ricreativo pedonale, una piazza colorata, piacevole, arredata, con panchine, tavoli da picnic e ping pong, rastragliere per le biciclette e 15 piante in vaso. Questo, appunto, è quello che viene comunicato di questa idea della piazza. Piazza, appunto, parcheggio che era vicino a questa scuola e che, quindi, adesso diventa uno spazio per l'uscita e l'entrata dalle scuole. Dopodiché, ripeto, magari anche quando facciamo le scuole pensiamole già con uno spazio appositamente fatto così, che non sarebbe male, no? Però, chissà, chissà. Tra parentesi, sta andando su la scuola che c'è a Cascina Merlata. L'ho vista qualche giorno fa, ormai è quasi, no, quasi completata, no, manca ancora un bel po'. Però, insomma, è su, non è niente male, è bella grossa. Lì ci sarà tutto un intervento interessante, proprio in mezzo alle varie case costruite a Cascina Merlata, di questa scuola, finalmente una nuova scuola a Milano, credo elementare e forse anche media, e interessante, tra parentesi con la vecchia ciminiere di un'azienda che c'era lì, tenuta e consolidata, quindi anche come simbolo un po' di questo luogo. Manca poco, finalmente vedrà la luce, insomma, dopo un bel po' di anni, da quando sono finiti i palazzi, ma, insomma, vedremo. In un quartiere abbastanza particolare, adesso poi interessato dall'innesto del Merlata Bloom, il nuovo grandissimo centro commerciale, che dovrebbe portare servizi a un quartiere che non ha un così alto però numero di residenti come si aspettava, nonostante tutte le case siano state vendute e si vede tanta gente, ma molti, molte, molte sono B&B e quindi sono affitti brevi, brevissimi, fatte soprattutto da turisti o gente che deve magari andare nella zona della fiera. W, il Cristal History delle 8, qui su Cristal Radio, a Good Morning Milano e please don't go a fare una pasquetta fuori, sembra che ci stia dicendo il meteo, perché effettivamente durante la pausa e dopo il giornale radio si è aperta una diatriba qui in redazione sul meteo, siamo andati a vedere praticamente qualsiasi sito possibile con il o senza il, come si dice in questo caso, un po' da pioggia sempre ragazzi, dice, c'è poco da fare. Adesso sto guardando questa, allora, da pioggia domani, 75% di probabilità di pioggia, mercoledì 80% di probabilità di pioggia, giovedì 40%, venerdì 55%, sabato 35%, domenica 35%, lunedì 70%. Bene, buona settimana santa a tutti, come vi ho detto prima. E vale, questa è la benedizione, altro che. Comunque, vediamo. E dopodiché può cambiare tutto nell'arco di 20 secondi, lo sappiamo sempre ormai che le previsioni del tempo sono sempre più complicate da fare per via del surriscaldamento globale, ma per via proprio di cambiamenti climatici e i modelli che vengono utilizzati per la previsione del tempo non sono aggiornati, o meglio, si stanno aggiornando, ma ci vogliono decenni di aggiornamenti. Ma il problema qual è? Che se per i 100 anni passati era tutto abbastanza normale e anno dopo anno si andava a consolidare il modello, lo scenario matematico creato per le previsioni del tempo, adesso questi cambi così repentini tra un anno e l'altro, tra un semestre e l'altro, fanno sì che sia difficile andare a fare dei modelli matematici e quindi bisogna rivedere tutto da capo e per questo, e per questo motivo, che le previsioni del tempo sono sempre più difficili. Ricordo anche questo, che noi siamo qua a parlare di previsioni del tempo per sapere se andare a fare la Pasquetta fuori o no, quindi sinceramente anche meno. Cioè, posso dire una cosa, l'ora di mattina vi svegliate, guardate fuori come la finestra e decidete cosa fare. Tanto, compratevi della pasta il giorno prima, ma che una bella spaghettata per tutti si riesce a organizzare tranquillamente. Il problema è qual è invece sulle previsioni del tempo? Aerei, navi, situazioni in cui la previsione del tempo è fondamentale per la buona riuscita di una missione, ok? Quindi, se voi dovete mandare un cargo pieno di materiale dalla Cina all'Europa, ok? E l'economia mondiale ormai si basa su questi spostamenti, tu puoi pianificare o meno un viaggio sapendo che in quel periodo potresti avere determinate situazioni o meno di maltempo e di meteorologico, appunto. Ma, se non ho più questi modelli matematici, se non ho più questi modelli che possono prevedere, appunto, quello che può succedere, è veramente complicato. E infatti sono sempre di più anche gli incidenti che avvengono alle navi in trasporto da una parte all'altra del pianeta, sono sempre più difficili anche i voli che devono poi riuscire a trovare situazioni d'emergenza per cambiare magari all'ultimo momento una rotta oggi a girare delle perturbazioni che non erano state previste. Insomma, il tema dei cambiamenti climatici, dei cambiamenti, influisce tantissimo appunto nella meteorologia. Quindi non solo sulla nostra Pasquetta, che rimane a questo momento appesa a un filo di speranza che in questo momento si sta bagnando, quel filo però, ma, insomma, è davvero, davvero complicato, soprattutto in barba, chi dice che poi il cambiamento climatico non esiste. Infatti, c'è stato tutto, come dire, quindi attenzione davvero. E ancora una volta ricordiamoci chi magari ogni tanto ci fa ricordare questo tema e troppo spesso invece noi altri che lo ignoriamo, chissà poi perché, chissà forse perché non vogliamo vedere la verità. Il Simple Redcon Mornings Too Tight alle 8 e 15 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, oggi lunedì 25 marzo. Abbiamo letto un po' di notizie, ce ne sono anche altre che arrivano da Repubblica Milano, ad esempio la notizia che nel quartiere Isola si cambia un po', perché Via Pepe sarà pedonale con aree per sport e verde al posto delle auto. Ecco, vedete, questo è un altro modo invece intelligente di utilizzare una via, una via piccolissima che proprio è al confine con la stazione di Garibaldi, anzi si esce, voi dalla stazione di Garibaldi potete uscire in via Pepe, vi trovate praticamente in isola, quindi molto interessante. Se quella parte lì diventa pedonalizzata è interessante perché diventa uno spazio utile per poter vivere al meglio il quartiere Isola, che insomma si qualifica magari solo dalla parte di là, invece finalmente si può riqualificare anche dalla parte di qua, per intenderci, verso la stazione e appunto iniziano i lavori. Quindi la nuova zona pedonale in arrivo in via Pepe, nel cuore del quartiere Isola, sarà vietato l'accesso alle automobili. Tutti i giorni della settimana la trasformazione riguarderà il tratto compreso tra via Borsieri e via Carmagnola e l'area di sosta all'intersezione tra via Borsieri e via Pepe. Circa 540 metri quadrati di spazio sottratto alle automobili. Tempi tecnici degli uffici per procedere alla delimitazione della strada e poi via Pepe diventerà quindi pedonale, un progetto che si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione del quartiere Isola che entro giugno, secondo l'ultimo cronoprogramma tracciato dal comune, diventerà una zona a traffico limitato. E' vero, mi sento di dire, non so dove andrò, quando vado lì a mangiare, è vero, però ragazzi è invivibile quel quartiere con le auto, cioè è invivibile, deve diventare quel donale. C'è una stazione della metro, c'è una stazione del treno e un'altra stazione della metro a Garibaldi, c'è la stazione Isola della M5, cioè si va a piedi dai, c'è poco da fare. Ambrogio, cosa facciamo dopo invece? E grazie, 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 grazie a Ambrogio Curti con Senti Questa, che andrà in onda appunto alle 9.05, subito dopo la nostra finale, dal nostro finale, e poi dopo il GR ci sarà appunto Ambrogio con Senti Questa. Tante canzoni, tante musica raccontate, l'avete visto che è bravo anche a raccontarci, ricordarci come possiamo fare per migliorare la nostra mattinata, che poi se migliori quella mattinata lì, migliori tutta la giornata poi. Eh sì, perché siamo legati a questa cosa qui, lo diceva anche Ambrogio poco fa, no? Crediamo che i primi minuti della giornata siano quelli che ci faranno poi dare l'imprinting a tutta la giornata. Non è detto che sia così, ma se ci convinciamo che così, lo diventa. e quindi facciamo in modo che quei minuti, quelle prime ore della giornata siano fondamentali e quindi siano vissute al meglio in modo che tutta la giornata poi sia una grande giornata. Alle 9.05 appunto Ambrogio Curti con Senti Questa. Tanta musica, tanta buona, bella musica. C'è chi dice che sono solo canzoni, c'è chi dice che sono solo musica. Io non lo so se è solo quello. Sta di fatto che davvero, sicuramente, senza tutta questa musica e senza tutte queste canzonette la nostra vita non sarebbe la stessa. Loredana Berte, maledetto Luna Park alle 8.33 minuti, bentornati qui su Good Morning Milano, sulle frequenze di Crystal Radio, anche sulle app di iOS, Android, e ovunque voi vogliate trovarci. Basta scrivere Crystal Radio con la K e 2L sul vostro Google, Google, e Google, e Google, così no, come dice quel famoso video che c'è in rete, e trovate Crystal Radio. Poi c'è anche le smart speakers. Attenzione, se siete nel mondo Amazon, c'è anche la skill, c'è proprio la skill per quella roba lì, per l'Alexa, Amazon così, quindi voi potete installarvelo e ascoltarci sempre, e insomma, quindi poi possiamo far parte della vostra quotidianità. Come? Ogni lunedì, fa parte della nostra quotidianità, ma perché ci dà un kick-off per tutto la settimana, il bravissimo Filippo Poletti, top voice di LinkedIn, tutti i giorni racconta e parla di lavoro attraverso il suo profilo LinkedIn, ma il lunedì lo fa anche con noi qui a Good Morning Milano, perché ovviamente, essendo mattina ed essendo lunedì, non fa altro che augurarci buon lavoro. E quindi, buon lavoro anche a te Filippo, e raccontaci un po' quali sono le parole del buon lavoro di questa settimana. A te Filippo Poletti. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è dedizione. Bellissimo esempio, arriva dalle Marche, da fermo, siamo al pronto soccorso, viene dimessa Giulia, quindicenne. Il medico chirurgo non è tranquillo e finito il suo turno, bussa alla porta di casa della ragazza, per chiedere ai genitori di riportarla in ospedale. Così, Francesco Bernetti, evangelista, ha salvato la vita a Giulia, che a causa di un'infezione midollare, rischiava di perdere l'uso delle gambe. Semplice e dirette le sue parole. Ho fatto solo il mio dovere di medico. Bellissimo esempio di dedizione. La seconda parola chiave della settimana è volere, potere, se lo sogni, lo puoi fare. È l'insegnamento di Carla Patalano, 29 anni, paracadutista, diversamente abile. Dice lei, avevo sentito parlare di paracadutismo e mi sono detta, perché no? E pensare che per i medici non avrei nemmeno potuto camminare. Camminare. La paura fa parte di noi. Superarla vuol dire vivere. Bellissimo esempio questo di chi non si ferma di fronte agli ostacoli. La terza e ultima parola chiave della settimana è leadership. Che cosa fa di un leader, un vero leader? Coraggio e visione. Se il coraggio è grande e la visione è ampia, allora siamo nella perfezione. Ne ha parlato Simona Cremascoli, partner della società di selezione del personale, Carter & Benson a Milano, che ha ospitato la presentazione del mio libro Smart Leadership Canvas. Coraggio e visione dunque per i leader. Buon lavoro a tutti e visto che si avvicina la domenica di Pasqua, 31 marzo, buona Pasqua a tutti. Aaron Smith con I Don't Wanna Miss a Thing 8 e 40 minuti di oggi lunedì 25 marzo. Lo so, la mattinata è andata intorno a tutta una diatriba sul fatto che io ho sbagliato perché ho parlato, ho chiamato Delpini cardinale, che invece non lo è perché è vescovo, così anzi ci ha anche detto Alberto al 33178 53555. Tra parentesi, innescando anche una polemica sul fatto che dice non è cardinale e sarebbe bello sapere perché. Quindi abbiamo anche questa cosa che c'è questa polemica dietro al perché Delpini non è cardinale, ma io ho intercettato mentre passavi in redazione Elena Versetti di Maccherazza di Umani. Buongiorno Elena. Buongiorno Fabio. Allora, tu hai studiato la cattolica, quindi hai fatto l'esame di teologia, hai fatto l'esame di teologia, quindi queste cose devi saperle. Ma sì, dovrebbe essere cultura generale, con pardon. però io avevo un problema perché dicevo il vescovo sicuramente è un importante. Il cardinale avevo il sentore che fosse più importante del vescovo e il papa sicuramente è il più importantissimo. E dai, cosa dico? Cioè più del papa c'è solo Dio. E direi sì. Ok, che è il datore di lavoro di tutti quanti. Perfetto. Ma quello che volevo capire è questo. Allora, quindi vescovo, poi pieno sopra? Cardinale. Ok. Sopra ancora? Papa. Ok. Tra il vescovo e il cardinale c'è l'arcivescovo? Sì, ma in realtà è uno che magari ha più... Ha più vescovi? Sì, ha più vescovadi. Ha più vescovadi, sì, però in realtà rimaniamo al vescovo. Non complichiamoci la vita. E comunque vescovo? Sì. Ok. L'arci cardinale non esiste? No, ok. Ma il cardinale chi è? Quello che non ho capito è quello. Chi è il cardinale? È un super vescovo. E cioè, ma quindi non opera direttamente come vescovo? Cioè nel senso non... No, sostanzialmente fa la stessa cosa. Il microfono Elena, sostanzialmente fa la stessa cosa che fa il vescovo. Ma vestito di rosso? No. Però, non so come spiegartelo. Quanto hai preso nell'esame di teologia? Ma si fa questa roba nell'esame di teologia? No. No, no, Ma scusa, in cattolica non vi spiegano queste cose? Non ho capito io. Eh, no. No, no, Tu lo scegli, tu lo scegli, sono degli argomenti. Sono degli argomenti. Signor Delpini, allora, però dobbiamo ripartire dalle basi qua, quindi. Noi siamo ben contenti. Il cardinale è come se avesse avuto una, ricevuto la referenza in più dal Papa, cioè il Papa lo sceglie per dei meriti personali, è come se fossero dei vescovi tra virgolette preferiti che per meriti personali il Papa si tiene più vicino. Ah, è come il capitano di una squadra, cioè sono tutti giocatori ma il capitano non c'è la fascia capitano. Sì, sì, nella squadra dei vescovi il cardinale è più importante. E poi i cardinali chi sono? Sono quelli che formano il collegio cardinalizio e sono quelli che poi votano il Papa. Sì, questo lo sapevo, infatti si dice sempre si entra Papa e si esce il cardinale, io per quello lo sapevo, sempre lo so per quello. Ma la domanda invece è finché si va di sopra, ok, ma invece di sotto come funziona la scala gerardica? Sotto il vescovi chi c'è? Ci sono quelli che chiamiamo preti, ossia sacerdoti, che nella definizione più precisa si chiamano parroci. No, si chiamano presbiteri. Presbiteri, ok. E qui siamo tutti d'accordo. Quindi sono i nostri preti. I nostri preti. Quelli che sono i sacramenti, oratorio, può essere parroco, può andare a aiutare gli anziani nell'RSA e vive vivo. Perché può essere parroco? Può anche non essere parroco? Non tutti i preti sono parroci. Le parrocchie hanno un parroco che è quello che ha... Questa è difficile, aspetta. Allora, non tutti i preti... Ah, è come dire, non tutti i politici sono sindaci. Bravo. Sì. Ok, l'ho capito, l'ho capito bene, vedete. Ok, quindi se puoi fai il consiglio comunale e sei... Ok, perfetto, perfetto, ho capito. E poi ci sono i diaconi. I diaconi sono persone come noi, quindi dei laici. Perfetto. Che non sono consacrati. Spero un po' meglio di me. Perché poi ci sono i laici consacrati come per esempio quelli che non fanno parte di un ordine ecclesiastico ma vivono come dei frati o delle suore. Te la faccio proprio subito. Ok. Invece i diaconi no. I famosi preti laici, i missionari laici. Invece i diaconi no, perché possono essere anche sposati e avere la loro famiglia. Però cosa fanno? Aiutano il prete visto che ce ne sono sempre meno ma non solo per questo motivo ci sono sempre stati. Cioè il diacono incarna quel credente che è talmente tanto credente che vuole mettersi ancora di più al servizio della chiesa e quindi aiuta il sacerdote in alcuni compiti. Può leggere il Vangelo addirittura a dire un'omelia e può aiutare nella distribuzione della comunione. Però gli altri sacramenti non credo... Non può sposare. Sicuramente. No, non può sposare. Ah, però quindi è un super aiutante perché ci crede tanto. È un super aiutante laico. Raccontiamola così. Ed è il diacono. Si chiama diacono. Detto ciò, ragazzi, voglio dire, ecco io non è che sono un'esperta teologica. Hai fatto la cattolica. Per me è già quello che vi rende, vi dà il patentino di esperti della cosa. Hai fatto la cattolica e sei infatti laureata in, diciamolo... No, in filologia italiana. Che non c'entra assolutamente nulla contro questo. Soprattutto che non serve nella vita lavorativa Pensa che nella mia vita quotidiana tu sei la cosa più vicina alla Chiesa che conosca. Quindi pensa a te come sto a me. Pensa alla mia anima come è ormai perduta. In tutto questo, vi ricordo, questa la so, che invece i pastori non sono roba nostra. I pastori sono protestanti, evangelisti, così, no? O anche ortodossi. Ma non sono nell'ordinamento cattolico. Non sono cattolici, sono cristiani. Ok, perfetto. Ah, sì, perché faci questa roba qui che tu puoi non essere... I pastori non si sposano, i pastori si sposano. Questa è la cosa più, la differenza che salta più all'occhio. Ok, poi c'è tante tante altre differenze. Vabbè, capite? Oh, ma chi è che alle 8.47 del mattino vi dà così tanta cultura, eh? Chi? Io non lo so, noi sicuramente. Poi non so, i vostri e altre cose che ascoltate la mattina che poi cosa accadono, avrete da ascoltare, altra roba, non ne ho la minima idea. Comunque, sta di fatto che io ringrazio tanto a Lorena Inversetti. grazie, la tua laurea non è stata fatta per niente, quindi complimenti i tuoi cinque anni passati all'interno dell'area. No, veramente quattro, perché io sono, perché ero vecchio ordinamento e mi sono laureata in corso, abbi pazienza. No, scusa, mi sono foste da cinque anni per quello. No, no, perché noi siamo dell'anno. Quindi ti dico una cosa, sei anche la cosa più vicina alla laurea che io conosco. Ottimo, ottimo. Oltretutto. Quindi grazie a M7 per rendere la mia vita un po' migliore ogni giorno qui. Ciao a tutti. A Good Money Milano, seguitela, ma che razza di umani, ma poi ti invito qua a parlarne bene. Lady Gaga Bad Romance. Andiamo verso la fine di questa puntata, non prima di avervi fatto ascoltare un contributo di Amorgio Curti, perché poco fa abbiamo mandato Solo Canzonette di Bennato e Ambrogio mi scrive un WhatsApp dicendo il titolo di Sono Solo Canzonette lo ha dato Inzo Iannacci e Bennato lo ha accettato molto volentieri. Io questa cosa non la sapevo, ho detto ma dai Amorgio davvero? E allora Amorgio ce la vuole spiegare meglio. Sì, Annacci stava registrando a Carimate insieme allo studio adiacente più o meno a Bennato che anche lui stava registrando l'album Sono Solo Canzonette. Siccome Bennato come molti è perfezionista, aveva messo tutti i livelli del mixer tutti a posto e praticamente è andato Iannacci nella pausa gli ha scombinato tutto gli ha messo un cartello con scritto un biglietto in fondo sono solo canzonette cioè non starli tanto a fare il perfezionista perché alla fine facciamo solo canzonette e allora Bennato ha preso lo spunto e l'ha intitolato Sono Solo Canzonette che è un po' la filosofia del disco hai capito hai capito che storia allora grazie mille Ambrogio per questa informazione Sono Solo Canzonette pensate Enzo Iannacci quindi c'è del Milano anche in quel disco lì eh sì sono Solo Canzonette disco di Edoardo Bennato con un titolo dato diciamo lo spunto dato da questa Iannacci che non si facevano mai fatti suoi però doveva andare subito lì a rompere le scatole al povero al povero Bennato ma fatti fatti no e invece non si è fatti fatti suoi meno male che non si è fatti perché così davvero ci hanno regalato un'altra perla di quelle a che perla 8 e 55 minuti e la perla della mattina Good Morning Milano volge al termine con al microfono il pirlo della mattina ci deve essere stata un'interferenza ho sentito non era perla ha detto qualcos'altro cosa è successo? troppo Milano troppo Milano ma comunque comunque dopo di noi allora lo ricordo ancora visto anche il contributo che ci hanno dato poco fa per spiegarci questa bellissima storia Ambrogio Curti con senti questa tutta la musica raccontata dalla preparatissima voce appunto del bravissimo Ambrogio e ringrazio tutti quelli che questa mattina al 331 7853555 hanno voluto mandarci un messaggio grazie la vostra compagnia è sempre bellissimo passare una mattinata insieme a voi e in questo lunedì 25 marzo siamo pronti quindi ad affrontare la settimana insieme e domani quindi ancora qui con Good Morning Milano domani mattina alle 7 aprite gli occhi sintonizzate la radio e ascoltate Good Morning Milano come tutti i giorni qui insieme a voi ciao a tutti buona giornata buon lunedì e buona settimana a tutti voi miei carissimi milanesi ciao ciao Oh!